Arriva anche dal Golfo di Policastro la solidarietà a Castellabate, duramente colpita dalla pandemia. Le sezioni di Vibonati e San Giovanni Appiro della Protezione Civile, assieme a quelle di Omignano e Castellabate, tutte appartenenti al gruppo Lucano, hanno comunicato che doneranno alla popolazione 2.500 mascherine FFP2 come incitamento e sostegno in vista dell'uscita dall'incubo Covid, che ormai da una settimana ha stretto la sua morsa attorno al comune cilentano. Continuano infatti a crescere i casi e non si allenta la preoccupazione per il focolaio scoppiato nella frazione Alano. Nella giornata di mercoledì sono stati 14 nuovi casi scoperti, sono tutti contatti di casi precedenti. Una persona inoltre si è negativizzata e due hanno avuto bisogno di ricovero ospedaliero. Il totale è salito così a quota 94. La decisione del sindaco Luisa Maiuri di indire fino al 6 gennaio per questo motivo lockdown in tutto il comune non è stata accolta con favore da tutti. Il sindaco tuttavia è convinta della rotta tracciata. Nonostante i tanti malcontenti registrati, ha detto, credo sia stata una decisione giusta. Il consigliere di minoranza Luigi Maurano però si è fatto portavoce del malcontento, sollevando alcune perplessità sulle caratteristiche dell'ordinanza, che non avrebbe a suo dire il carattere dell'urgenza della necessità e non disciplinerebbe alcuni aspetti come la possibilità di fare ritorno presso la propria residenza, di fare attività motoria o di recarsi presso i propri terreni agricoli. Non è il momento delle polemiche, ha replicato la Maiuri, ma è doveroso ricordare al consigliere Maurano il mio appello allo spirito di unione e collaborazione, appello accolto dai consiglieri di opposizione, lo schiavo e di Biasi, che con responsabilità in questi giorni hanno testimoniato la loro vicinanza. Questo è il momento dell'unione di fronte alle scelte difficili. Grazie a tutti.